Ciao a tutti e bentornati sul canale. Buon anno, buon 2018, finalmente il primo video dell'anno e io incomincio subito con il video dei regali di Natale. Questo video sarà selezionato in autoregali e regali ricevuti per le festività natalizie, quindi per il Santo Natale. Ho cominciato ad occupare degli acquisti durante il Black Friday, quindi ci saranno oggetti acquistati durante il Black Friday e i regali che ho ricevuto a proprio per Natale. Partiamo subito dagli autoregali e parto con il libro di Benedetta Rossi, questo è il volume numero 2. Anche l'anno scorso avevo acquistato il primo libro durante il Black Friday più o meno e l'ho trovato molto interessante. Con le ricette di Benedetta si sa, si va sul sicuro perché sono facili e sono intuitive e soprattutto il risultato è garantito perché Benedetta le prova sempre prima lei e quindi ovviamente quelle che sono sul libro sono proprio ricette ad hoc. Mi sono piaciute quelle del primo volume, ne ho provate qualcuno, infatti ho fatto un video su un ciambellone senza latte né burro e io ovviamente ho fatto la versione lactose free e trovate il link qui su. Ho comprato il secondo volume, ho già iniziato a spulciarlo e in realtà non ho provato ancora a realizzare nessuna ricetta perché in questo periodo è stato molto difficile per me preparare dei piatti e come buon proposito per il 2018 mi sono ripromessa di provare qualche piatto tratto dal ricettario di Benedetta. questo libro costa 18,90€ da listino ma io penso di averlo pagato meno sui 15€ credo se non ricordo male perché l'ho appunto preso durante il Black Friday ma non l'ho pagato scontato per il Black Friday l'ho pagato scontato perché era la novità, c'era il 15% di sconto. Gli altri auto regali li ho acquistati da Maison du Monde, ho comprato questa confezione di pirottini per i cupcake e all'interno c'erano anche i bastoncini con la scritta Eat Me Handmade quindi Mangiami è fatto a mano e poi c'erano degli altri, non ricordo più perché lo ripeto li ho acquistati prima di Natale sono tutti uguali quindi Eat Me, sono le stelline con il bastoncino, lo stuzzicadenti che si infilta nel cupcake dove c'è scritto appunto Eat Me Handmade e invece sul pirottino alcuni sono The Best Muffin ci sono due con le stelle, dorato stella nera, nero stella dorata e l'altro è Cookie Sauce, la casa dei biscotti e era molto simpatica, il costo era 4,99 e questo era al 50% quindi da 4,99 l'ho pagato 2,45 poi c'erano queste cannucce che sono fantastiche 12 cannucce e hanno tutte un disegnino io non l'ho aperto queste cannucce hanno tutte un disegnino qui c'è un cuoricino poi c'è quella con l'alberello di Natale dove c'è scritto Very Merry Christmas, Olly Jolly e poi c'era anche quella con il, eccolo qua il famoso biscottino in pan di zenzero diciamo che anche da realizzare in casa queste cannucce non come opera fai da te un DIY non sono molto difficili ma sinceramente io quest'anno non ho avuto molto tempo di farlo e quindi non ho potuto far realizzare tutti i DIY che avevo in mente ho pubblicato alcuni video natalizi e vi lascio il link qui su anche se so che siamo un po' fuori tema al momento anche questo era al 50% questo costava 2,99 infatti scontato è venuto 1,45 il pezzo forte però di Maison du Monde è un altro diciamo che è un calendario dell'avvento avevo addocchiato molto tempo prima ma non sapevo che poi sarebbe stato scontato del 50% e ne avevo visto anche un altro che era molto bello era a forma di cassetta in pan di zenzero simpaticissima eccola qui io ho preso questa confezione è un camino non so se si capisce sì è un camino dove su ci sono i pacchi i regalini c'è Babbo Natale che infatti sbuca da sotto con le sfegambine eccole qui e ci sono i cassettini e in ogni cassettino ci si mette appunto una caramella un cioccolatino un pensierino un regalino questo è venuto a costare 14,95 quindi costava 29,99 sapete perfettamente che in Puglia a Bari non c'è Primark ma ho un angioletto che si è trovato al Primark nel centro commerciale di Verona mi ha portato una confezione che conteneva delle decorazioni natalizie la confezione è questa è della Disney quindi vi lascio immaginare al solo costo di 5 euro c'erano 6 decorazioni vi faccio una carrellata delle decorazioni contenute in questa scatola passiamo ora ai regali ai regali che ho avuto per questo Natale io ho una mega busta che contiene un po' tutti più o meno perché alcune cose sono già disposte sulla mia mensola parto da regali amici e familiari quindi non li distingo ringrazio ovviamente tutti sono stati già ringraziati personalmente li ringrazio pubblicamente ho avuto il libro di Michelle Hunziker Una vita apparentemente perfetta che sto leggendo ovviamente una fan di Eros Ramazzotti non poteva non acquistare il libro o perlomeno farselo regalare perché ho seguito la loro storia d'amore dall'inizio quindi volevo capire anche come andava è un libro interessante anche perché c'è una storia dietro molto molto particolare che farebbe bene leggere a tutti ho ricevuto sia questa sciarpa che è un cerchio e si usa in questa maniera qua cade tutto perfetto ci sono vari modi di utilizzo di questa sciarpa e insieme alla sciarpa mi è stata regalata una crema corpo graditissima ovviamente la sciarpa si sa io che sono molto fredolosa ne uso tantissime poi ho ricevuto il candy di Prada il profumo che oramai utilizzo solo questo che uso da 3-4 anni circa è delicato essenziale e si dolce perché ovviamente si chiama candy proprio perché ricorda le caramelle ha un packaging davvero simpatico e carino ve lo faccio vedere adesso un'altra sciarpa però questa è diversa dal colo di prima è una sciarpa di HM era di HM sì è una sciarpa di HM ed è rettangolare larga i toni i colori sono rosa panna beige quindi colori che si adattano a qualsiasi tipo di giacca e cappotto ho ricevuto anche una felpa questa è una felpa di Stradivarius io ho ricevuto una S mi va bene l'ho provata è giusta è molto larga anche in vita però la taglia è giusta perché le maniche sono giuste non sono lunghe anzi sono proprio al polso a me piace portare i maglioni belli lunghi non mi piacciono le maglie dove si vede il polso insomma mi piace perché poi faccio questa operazione tutte le volte mi piace che i maglioni siano abbondanti avvolgenti però giusti e quindi questa fa esattamente questo lavoro qui è una felpa in un cotone abbastanza leggero per quanto mi riguarda perché io soffro molto il freddo però basta usare un lupetto e il problema non si pone dicevo che la felpa è particolare perché ha la scritta unique poi abbiamo ancora il contenuto della busta di Cossinelle eccolo qui che è avvolto in una carta simpaticissima rosa a poire molto carina e non è altro che un collo in pelliccia sintetica intrecciato ed è morbidissimo è proprio morbido 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 e ovviamente è molto caldo ultimi due regali ho ricevuto in questa meravigliosa scatola di latta un regalo dell'atun sotto c'è già diciamo l'immagine del prodotto contenuto all'interno è una semplicissima scatola in latta ora prendo l'oggetto perché è esposto questo meraviglioso orsetto Babbo Natale ha pure il sacchetto ed è Teddy Toon c'è scritto sotto qui è dolcissimo è bellissimo è come ultimo regalo un pensierino lo apro ed è un grembiule da cucina con la scritta Pone Feste non è lunghissimo è simpatico è in tessuto lavabile è simpatico perché è rosso e ha le cordicine dietro per essere legato ed il primo video del 2018 è andato vi ringrazio per aver guardato il video mi raccomando lasciate tanti pollici in su se il video vi è piaciuto io vi ricordo che potete trovarmi su tutti i canali social che trovate giù nell'info box se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi seguite le istruzioni qui sotto e cliccate anche la campanella in modo da non perdere i prossimi video che caricherò ciao e alla prossima grazie a tutti i canali Grazie.